Ormai quando vado dal parrucchiere a tagliarmi i capelli, hanno preso la moda di farmi riso gallo blonde in testa piastrandomi i capelli. Sono molto giovane, perché con i capelli lunghi che avevo prima ero molto vecchio, vecchio, ero vecchio. E farò tutto il video guardandomi il ciuffo. È un ciuffo ipnotico. Ecco, ipnosi! Ciuffo ipnosi! E niente, niente. Hanno preso questa mania, mi piastrano i capelli perché dicono che... Già ce n'ho pochi, però non si notano, ecco. Pettinati così. Adoro i portici, adoro i portici, frasi a caso, che non capirà nessuno. Adoro i portici. E ipnosi, ipnosi di ciuffo, ecco. Poi, oltre alla pettinatura da giovane, ieri sono anche andato a fare shoppings. Sì, ieri? Sì, sono andato a fare shoppings con la S. Ho preso tanti indumenti da giovane. Visto che molti mi dicono che ho un brutto gusto nel vestire, ecco. Allora, ho fatto shopping giovane, poi a un certo punto mi lasciano due minuti da solo nel camerino e succede di tutto. Momenti di panico generale, il mondo che si ferma, lo spazio che cambia, sensazioni strane, eccetera, eccetera. Perché non mi dovevano dare una taglia, è successo di tutto, è successo di tutto, ma in due minuti può succedere di tutto. In due minuti si può succedere di ipnosi, ipnosi da ciuffo. E niente, sono due minuti che straparlo e direi di metterla qui. Non sono morto, non sono morto, sono sempre vivo. Sono sempre vivo, eh. Sappiatelo che non sono morto, non sono morto.